musica 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 ragazzi con un nuovo video però andiamo ad aprire un uovo che non è tanto uovo andiamo ad aprire il nostro cocco come lo apri papà come lo apriamo così prendi il coltello facciamo fruit ninja facciamo magliette fiorelli papà vai ci va fruit ninja da l'apri ma questo non si apre ma anche se lo uccidi cioè se tu lo uccidi con un coltello non puoi uccidere un cocco non è vivo vai che è squasciuta col cocco si ma è tutto l'acqua io l'acqua volevo questo si mangia l'acqua è la parte buona sembra neva ma questo prendi col coltello la neva eh si io voglio è buono però volevo io l'acqua volevo io l'acqua come è? che sapore c'è? è buona è è buona è buona è buona sai che sembra? la parte bianca del melone dell'anguglia a me mi sembra come una cucciola a me mi vedete ehi tu cosa aspetti ancora? non ti sei iscritto forza dai non sai cosa ti aspetta videogame gameplay video divertenti stupidi malati cosa aspetti? clicca su di me e potrai avere a disposizione un mondo di video tutto per te metti un bel like e clicca su di me che ricorda io non vendo sogni ma solidi video ogni giorno forza cliccami cliccami cliccami